Chesterton conclude uno dei suoi libri più famosi con queste parole. C'era qualcosa che Gesù occultava con un improvviso silenzio o con un impetuoso isolamento. C'era una cosa troppo grande perché Dio potesse mostrarcela quando è venuto sulla terra e io qualche volta ho immaginato che fosse la sua gioia. Questa immagine di una gioia dirompente che spinge dal fondo di Gesù per emergere e che lui con una qualche timidezza cerca di tenere nascosta in qualche modo perché se la lasciasse sgorgare, debordare pienamente sconvolgerebbe il mondo. Questa è l'immagine di Chesterton, dell'immagine che mi ha accompagnato in alcune delle serate di letteratura che da qualche anno propongo alla mia comunità, serate in cui passeggiamo in testi di letteratura varia cercando di offrire qualche chiave di lettura sapienziale, mettendoci in ascolto del fremito, nascosto, profondo della parola con la P maiuscola che attraverso pagine di letteratura non religiosa respira, parla e racconta. E quindi in questo libretto raccolgo il frutto di cinque di queste serate attraversando il Cavaliere inesistente di Calvino, Canto di Natale di Dickens, L'Odissea di Omero, Il Grande Gatsby di Fitzgerald e Uomo vivo appunto di Chesterton. È un accostamento di cinque testi di varia provenienza che fa emergere come un filo rosso sul tema della gioia. C'è una gioia che spinge dal fondo di ognuno di noi per emergere, per consegnarsi al mondo, per dilagare nel mondo e c'è un percorso che ci è affidato, un percorso da fare, da mettere in atto perché possiamo lasciare spazio a questa gioia che vuole emergere. Buona lettura.